Eccoci qui sulla ruota di Budapest, madre quant'è alta! Dove? Vediamo pure questi ragazzi. E la cittadella, si vede tutto da qua? Ah mazza, già sta a riscendere però. Guarda la cattedrale come si vede bellissima da qua eh. Oh che bello! Aspetta un po'. È fugace, è molto fugace. No, in effetti non lo faccio veramente. Ma io non so più di un giro. Beh farà più di un giro, spero. Ah lo spero anch'io.